Lo che mi sento nel dibattito è che questo è un tight race, per cui si tratta di preoccupazione, non via mai. Lo che mi ricorda, è una preoccupazione sincero, per cui la mia persona in tutto il caso sta andando a Libanano. Preoccupazione di comunità, di persone che si sentono, che lo portano a un effetto di Libanano, di salute, e l'aspetto politico, se non mi chiede a nostra legge, è ora che si tratta di una discussione politica, ma non mi chiede a questa aiutazione di arrivare a una decisione, ciò che non si tratta di un momento, ciò che si tratta di un balancio, tutto ciò che mi ricorda, ciò che si tratta di un problema, ciò che si tratta di preoccupazione, ciò che si tratta di un progetto così, e poi si tratta di una decisione, finalmente. In un momento in cui mi sento che questa opposizione contro il Stato di sostegno del governo, che lo stanno appoglando e non appoglando, ciò che mi chiede una discussione politicamente, e non realmente arriva il contenito nel reale dei problemi.